Siamo con Tiago Casasola per commentare questa sconfitta del Cosenza al 94esimo un grande primo tempo, diciamo 60 minuti in cui il Cosenza ha fatto la partita poi l'espulsione di Schaudon e ne parlavamo anche con Braglia probabilmente ha cambiato in peggio per voi questa gara? Sì, purtroppo la gara è stata un po' cambiata dalle decisioni dell'arbitro perché alla fine è un po' troppi ammoniti, spulsi, ma al di là di quello non voglio cercare gli alibi c'è stata una buona gara da parte nostra purtroppo alla fine abbiamo sentito che ce la potevamo fare mi ho beccato un palo e poi ci è girato contro, ma al calcio è anche questo sono contento perché la squadra c'è la gara, come ho detto prima, poteva girare anche per parte nostra ma come ha detto il mister prima se noi continuiamo a fare delle partite così sicuramente ci toglierremo delle soddisfazioni quindi dobbiamo continuare a lavorare la strada è lunga ma siamo sulla strada giusta Rispetto alla partita di Udine del Pescara contro il Pordenone tu alto a destra e Dorazio alta a sinistra avete costretto gli esterni del Pescara a stare più bassi e lì la partita sembrava andare dalla vostra parte poi è successo quello che è successo e si è arrabbiato Braglia nel finale perché ha detto certe volte bisogna capire che un punto va bene Sì, sì, dovevamo capire anche questo è un punto contro una squadra importante come il Pescara fuori casa ci stava benissimo purtroppo, come ho detto abbiamo pensato che ce la potevamo fare la voglia anche in questo momento di andare avanti di cercare di fare i tre punti ci ha giocato un po' contro ma ripeto, la squadra c'è ha fatto una buona gara e siamo contenti grazie a tutti